PEGI 18 La sofisticata arte dell'assassinio è ora nelle tue mani. Giochi nei panni dell'uomo più pericoloso del mondo. È noto solo con il suo nome in codice. Agente 47. È nato per questo mestiere ed è un vero esperto. Sa uccidere in modo discreto e indolore. O anche in maniera raccapricciante e violenta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.